Ho fatto quattro parolimpiadi, ho fatto diversi campionati del mondo, ho vinto più di 50 titoli italiani tra tandem e atletica, ho un 2.30 in maratona che credo che sia il risultato sportivamente parlando più elevato. E i titoli continuano e sono tanti, credetemi. Lui è Giulio Gusmeroli e dato il suo curriculum agonistico, verrebbe da chiamarlo l'uomo dai record, anche perché Giulio, atleta ipovedente, dopo una lunga preparazione in vasca e nelle acque del lago, si appresta ora ad un'altra impresa, la traversata a nuoto dello stretto di Messina. L'idea è nata un due o tre anni fa, l'idea è di fare lo stretto di Messina con degli amici della Val Chiavenna, con i quali garigio per le gare normali del CSI di nuoto e ho fatto anche qualche attraversata qui sul lago. Però adesso l'impresa, se ci riusciamo, se non c'è troppe correnti e diciamo cose che sfavoriscono il tentativo, sarà appunto di provare a fare lo stretto. Nella traversata, la distanza della quale equivale a circa tre chilometri e mezzo, Giulio sarà accompagnato da altri sei nuotatori, vedenti, che con lui tenteranno l'impresa. Che messaggio vogliamo lanciare con un'iniziativa come questa? Il messaggio è quello di riuscire a creare più empatia possibile tra le persone, la disabilità passa secondo me molto in secondo piano perché io non la sento più di tanto, ci rido sopra al discorso del problema della vista perché ho la fortuna di avere davvero tanta gente che mi supporta, mi vuole bene. Proprio una settimana fa abbiamo rinnovato l'intesa di protocollo con l'Unione Ciechi per assistere gli atleti e quindi noi con l'Oxen e con gli altri enti di promozione saremo vicini a loro. Conoscevo già Giulio, è una macchina da guerra, non si ferma davanti a nessuno ed è proprio un esempio per i più giovani. Questo è il distintivo ufficiale nostro e volevo donarlo a Giulio, lo applica poi da settembre ci saranno tutto. Ti ringrazio Giulio, veramente grazie mille. Spero innanzitutto di riuscire a farlo perché sarebbe un po' un sogno nel cassetto e sicuramente ne parleremo, poi ne racconteremo di questa avventura e io rimango comunque sempre con i miei piedi ben saldamente appoggiati per terra. E allora, forza Giulio!